Ha fatto registrare un aumento vertiginoso negli ultimi mesi il numero di casi di sextortion ai danni di adolescenti. Sono già più di un centinaio le segnalazioni ricevute dalla polizia postale e riguardano minori per lo più tra i 15 e i 17 anni e anche più piccoli. Sempre più spesso, sottolinea la questura di Sondrio, la curiosità sessuale dei ragazzi li trasporta in un incubo fatto di ricatti, richieste insistenti di denaro e minacce di distruggerne la reputazione, diffondendo sui social immagini sessuali ottenute tramite live chat. Un'escalation che inizia in chat con profili social di ragazzi e ragazze, gentili e avvenenti, apprezzamenti e like per le foto pubblicate. Si passa poi alle video chat e le richieste si fanno man mano più spinte. Nei giorni seguenti il martellamento online include la richiesta di somme di denaro anche esigue, con la minaccia che in caso di mancato pagamento il materiale sessuale verrà diffuso tra tutti i contatti, gli amici e i parenti. Le vittime, intrappolate tra la vergogna e la paura che le immagini intime possano essere viste dai loro contatti, tendono a tenersi tutto per sé, a non confidarsi con nessuno, in particolare con i genitori. Per questo motivo il fenomeno è sottostimato, avverte la questura, perché la denuncia impone ai ragazzi un disvelamento ai genitori, che a volte appare più doloroso delle minacce dell'estorsione. Il consiglio della polizia postale per chi dovesse trovarsi a fare i conti con tentativi di estorsione di questo tipo è di non cedere mai al ricatto pagando le somme richieste, non vergognarsi per aver condiviso immagini intime con sconosciuti, perché spesso si tratta di criminali organizzati che conoscono le fragilità dei ragazzi. Inoltre non cancellare i messaggi scambiati con gli estortori né chiudere i profili social su cui si viene contattati, ma fare gli screenshot delle conversazioni e delle minacce e del profilo dell'estorsore e fare una segnalazione sul portale www.commissariatodps.it per chiedere aiuto, parlarne con i genitori o con un adulto di fiducia e ricordare che chi ha più di 14 anni può sporgere una denuncia anche in modo autonomo in qualsiasi ufficio di polizia.